E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRiki01 e oggi siamo al ventottesimo episodio per affrontare il secondo capo palestra, andiamo subito ragazzuoli! Eccoci qua, rimasti con il nostro Registeel paralizzato signori, purtroppo, è tipo roccia comunque, che ha ben... Quanto attacco ha ragazzi questo Registeel? 130 e 122 di difesa, va bene. L'attacco speciale non c'è nulla comunque, vabbè, sti cazzi. Andiamo, il secondo ragazzi, il primo era Fosco, il secondo, vediamo un po' chi è. Ecco qua, ecco qua signori, ah ah ah, sono Ester, Ester ragazzi. Di Super 4 mi sono allenata su Monte Pira, allenandomi sono entrata in sintonia con i Pokémon di tipo spettro. Sì, il legame che ho stabilito con i Pokémon è estremamente profondo. Dai forza, vediamo se se dare del filo ad adorcere i miei Pokémon. Parte la sfida di Ester Super 4, è il turno di Volpix! Registeel ragazzi è paralizzato, quindi subiremo un po' di danno. Io direi di fare Ferroscudo per primo, lui ci usa rancore. Ok, Volpix serve ancora l'avversario. Ora noi facciamo Ferroscudo ragazzi, che ci presentiamo la difesa di molto. E Ferartigli iniziamo ad attaccare. Lancia Piamme contro noi siamo tipo roccia, quindi non ci dovrebbe fare nulla. Ok, perfetto. Bravo Registeel. Paralizzato non può attaccare, va benissimo. Ancora Ferartigli. Come questa Ester ragazzi è tosta. Comunque è bello sto uomo tipo spettro, Volpix ragazzi. Ancora paralizzato non può attaccare, signori. Lancia Fiamme che ci troverà a 7, penso. Andiamo un po'? No. C'è tolto di più stavolta ragazzi. Come mai? Come mai c'è tolto di più? Oh. 3 turni che non attacca il nostro Registe. Il colore la paralisi. Era meglio nello scorso video se non subiamo la paralisi. Ragazzi, quarta volta che non attacca. Registeel, che cos'hai oggi Registeel? Fratellino, che cos'hai Fratellino? Che cos'hai Registeel? Ok, ora attacchi. Let's go. Ferartigli ragazzi. E metà vita per Volpix. Una lotta molto intensa questa qui ragazzi. Molto intensa. Ferartigli ancora signori. E forse questo Volpix va a K.O. Perde tutti i PP a causa di rancore. Ferartigli ragazzi. Quindi ora non abbiamo più PP per Ferartigli. Lugia ci ha messo. Non so se cambiare Pokémon ragazzi. Però Registeel sta facendo il devasto sinceramente. Quindi Lugia contro Registeel. Due leggendari. Ferartiglia verso tutti i HP ragazzi. Forza antica signori. Forza antica a Lugia. Che è super efficace. Attenzione. Metà vita. E usa la bacca Cedro il signor Lugia. Che recupera un po' di HP. Idropompa è super efficace. Mese a qua i Registeel. Ci lascia le penne signori. 41 di vita. Forza antica. Speriamo un bel brutto colpo. Per poco. Facciamo forza ragazzi. Che forse è infatti. Lui ha usato ricarica totale. Vuoi vedere quanto danno fa forza. Si attacca. Vediamo un attimo. È paralizzato ragazzi. E mi sa che Registeel qui ci abbandona. Eh sì. Registeel. Ci abbandona ragazzi. Tanto non vi preoccupiamo. Non ci preoccupiamo. Non ci preoccupiamo. Che abbiamo. Realizzanti e iperpozioni a go go. Quindi. Allora. C'è Idropompa eh. C'è Idropompa. Lui è di tipo erba. Potrei mandare lui. C'è la rizzarda di tipo erba. Non si può vedere. Comunque è di tipo erba. Un bel. Lancia fiamme. Ci usa raffica. Super efficace al tipo erba ragazzi. Incredibile questo. Lugia che cosa ha. Lancia fiamme. Ancora non sappiamo il suo tipo ragazzi. Sinceramente parlando. E mi sa che. Raffica ragazzi. E anche Charizard ci lascia le penne. Attenzione. Attenzione ragazzi. Zaptos che tipo era? Volante. Idropompa. Raffica. Va bene. Possiamo mandarlo questo Zaptos. Attenzione. Io vi farei un bel perfum. Idropompa sub. Quanto è veloce questo Lugia ragazzi. Perfum becco. E non facciamo nulla. Dobbiamo scoprire il tipo di Lugia ragazzi. O è volante. Però prima il pofferarti è super efficace. Quindi è tipo. What? Che tipo è ragazzi Lugia? Acciaio è super efficace a cosa? E mi sa è volante regà. Roba del genere penso. Attenzione. Forse uccidiamo Lugia con Zaptos signori. Ancora Raffica che ci toglie poco penso. Ok. E tuono shock vai Zaptos. Bravissimo. Bravissimo Zaptos. Che lotta ragazzi. Che lotta incredibile. Secondo po- Terzo Pokémon per loro. Gengar. Per lui scusate. Anzi lei. Esther. Gengar che diventa bellissimo. Paffutone. Store di raggio. Eccola ragazzi. Eccola che forse perdiamo qui. Zaptos è confuso. E si attacca da solo signori. Meno male che non ci toglie tanto. Pugno d'ombra. E' confuso Zaptos. Ok c'è stato 8-20 comunque ragazzi. E' ancora. Si confonde da solo. Cari salvaguardi la squadra dell'avversario. E' più o meno d'ombra. Quindi andiamo di qua al 50. 5-20 vita ok. Non è più confuso per Pobbeco signori. Ed è super efficace. E Gengar. Un quarto di vita rimane. Destino obbligato ragazzi. Eccola ragazzi. Siamo morti. E' morto anche Zaptos signori. E' morto anche Zaptos. Perché Gengar trascina il nemico con sé. Con destino obbligato signori. Io direi di mandare Ispion. Vai signori Ispion. Dopo dobbiamo usare tanti levitizzanti ragazzi. Meganium. Attenzione. Ma che Pokémon ha ragazzi. Io direi di fare. Di coraggio. Non ha effetto su Meganium. Oh. Sincronismo di Ispion. Il veleno anche su Meganium ragazzuoli. E posso. Vedere. Comete. Facciamo comete allora. Non è normale. Non gli facciamo nulla ragazzi. Proprio nulla. Ehm. Devo inventarmi qualcosa. Ho due mostri di tipo psico. E devo continuare così ragazzi. Faccio morire Ispion. Va bene dai. No. C'ha sintesi Meganium. Io pera ragazzi. Io pera. Ho un'idea. Ho un'idea ragazzi. Ho un'idea. Ho un'idea. Andiamo qui. Io direi fare. Un ravideizzante Max. A Registil signori. Perché questo è proprio il momento di Registil. Perché forse ragazzi. Lui è tipo spettro. Mi sa. Spettro. Veleno effetto. O è tipo buio. O è spettro. Una roba del genere. Forse è buio. Perché comete. I mosse normali. Hanno effetto. Quindi è tipo buio. Mesa. Corpo scontro. Che subisce anche lui. Un po' di vita. Non è vero. Scherzavo. Corpo scontro. Paralizza. Mesa. Ti ricordo. Intanto l'effetto ragazzi. Qua del veleno. Sta facendo effetto proprio. Vi doiamo un po' di vita. Corpo scontro. Ci uccide. Perfetto. Meno male che il coespo. Abbiamo il sincronismo ragazzi. Allora. Vai con Registil. Signori. Vai con Registil. Il veleno effetto su Meganium. Io direi di fare. Forza ragazzi. Ok. Sintesi. Va bene. Ricopri un po' di vita. Forse ora vi faccio. Ferartigli ragazzi. No Ferartigli. Non c'ho più mosse. È vero. Forza antica. Allora. Vai con Forza antica. Vediamo un po' quanto li togliamo. Ok. Attacco di Registil. Sale ragazzi. Difesa sale. Velocità sale. Sale un po' tutto. Sale. L'attacco speciale. L'attacco speciale sale. E difesa speciale sale. Sì perché Forza antica ragazzi. Aumenta tutte le statistiche. Io direi di. Prendermi questo turno ragazzi. Ok. Per. Recuperare. Tutti i pp. Tutti i pp. Soprattutto. For. Per artigli ragazzi. Il nemico si è ripreso. Un po' di vita. Intanto. L'abbranamento. Per artigli. L'abbranamento è a effetto. Ha effetto. Per artigli ragazzi. Che forse. Non rifacciamo nulla. Velenpolvere. Ecca lì. Ecca là signori. Mi sa. Che anche Registil. Ci saluta. Mamma mia ragazza. Sto velen. Pobre di meganium. È una lotta incredibile. Forse con forza. Potrei shottarlo. Via un attimo. Manca poco. È ancora sintesi. Signori. Ancora sintesi. Incredible. Questa lotta. Sta durando. Un secolo. Signori. Con questo meganium. Molto. Fortino. Forse Forza antica. Ha fatto di più. E abbiamo un po'. Forza antica ancora. Attenzione signori. Forse può morire. Forse può morire. Con il suo veleno. Con il suo veleno. Attenzione. Che forse muore. Con il suo veleno. Attenzione ragazzi. Ed è morto. Finalmente. Questo meganium. E intanto. Registil al 52 signori. La prossima è Fortress. Fortress signori. Io direi di fare. Subito. Per artigli. Super efficace a Fortress. E forse muore. Shotato. Signori. Incredibile. Mamma mia. Mamma mia. Oh. La prossima partita. Il legame che esiste fra te e i due pomono. È fuori discussione. L'ho sottovaluato. E quindi è naturale che abbia perso. Chissà quanto lontano porterà questo legame. Coraggio. Passa alla prossima sala. Stavo dicendo ragazzi. Che ora è un po' difficile. Nel senso. Che io ora non posso culare Registil. Mi deve morire. In una battaglia. Per poi cularlo. Per togliere l'abbinamento ragazzi. E sì. E sì ragazzi. Purtroppo sì. Curiamo intanto questi ragazzi. Così ci prepariamo per la prossima. Battaglia. E prossimo episodio. Ok. Registil non lo culo. Rega tanto deve morire con l'abbinamento. Perfetto ragazzi. Perfetto. Salviamo. Ragazzi spero che questo secondo super 4 vi sia piaciuto. Lasciate like. Commentate il video. E ci vediamo subito alla prossima. Ciao bellissimi.